Marco Polo, l'esploratore che cambiò il mondo. Marco Polo è uno dei più famosi esploratori della storia. Nato a Venezia nel 1254, compì un viaggio di oltre 21 anni in Asia, visitando l'impero mongolo, la Cina e altri paesi dell'estremo Oriente. Le sue esperienze furono narrate nel libro Il Milione, che divenne un best-seller nel Medioevo e contribuì a diffondere la conoscenza dell'Oriente in Europa. I primi viaggi Marco Polo nacque in una famiglia di mercanti. Suo padre, Niccolò, e suo zio Matteo, intrapresero un viaggio in Asia nel 1260. Marco, che all'epoca aveva solo 17 anni, li accompagnò. Il viaggio fu lungo e pericoloso, ma alla fine i tre uomini raggiunsero la corte del Gran Khan, il sovrano dell'impero mongolo. La permanenza in Asia Marco Polo rimase in Asia per 17 anni. Durante questo periodo, viaggiò in tutto l'impero mongolo, visitando città come Pechino, Sian e Karakorum. Fu anche ambasciatore dei Gran Khan in Europa. Nel 1292, Marco Polo fece ritorno a Venezia con suo padre e suo zio. Il loro viaggio fu raccontato nel libro Il Milione, che fu scritto da Rustichello da Pisa, un notaio genovese. Il libro fu un successo immediato e fu tradotto in molte lingue. L'influenza di Marco Polo Le esperienze di Marco Polo ebbero un'influenza profonda sul mondo occidentale. Il suo libro contribuì a diffondere la conoscenza dell'Oriente e stimolò l'interesse per l'esplorazione e il commercio con l'Asia. Marco Polo è considerato uno dei più grandi esploratori della storia. Il suo viaggio in Asia fu un'impresa straordinaria che ha cambiato il modo in cui gli europei vedevano il mondo. Alcuni dei contributi di Marco Polo Diffusione della conoscenza dell'Oriente Il libro Il Milione fornì ai lettori europei una descrizione dettagliata dell'Asia, delle sue culture e delle sue tradizioni. Stimolo all'esplorazione e al commercio Il libro di Marco Polo stimolò l'interesse per l'esplorazione e il commercio con l'Asia. Influenza sulla cultura occidentale Le esperienze di Marco Polo hanno avuto un'influenza profonda sulla cultura occidentale, ispirando opere d'arte, letteratura e musica. Conclusione Marco Polo è una figura leggendaria che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Il suo viaggio in Asia è un'impresa straordinaria che ha cambiato il modo in cui gli europei vedevano il mondo. Grazie. Buono